Amici di Gira e Rigira, eccoci qui con il grandissimo Alessio! Ciao Alessio, partenza del Giro d'Italia da Porto Recanati, giusto? Sei pronto a rispondere al nostro quizettone sul ciclismo? Alessio è meraviglioso ed è prontissimo, vai! Chi indossa la maglia blu? Quello che la porta blu, grande puffo! Qual è l'etapa più lunga del Giro d'Italia? Quella del Po! Non lo so se tanto ho preparato! Non lo so, non lo so! Cosmas ce la farà vincere questa tappa? Può essere! Dici che ce la fa? Quante squadre ci sono al Giro d'Italia? Come le regioni, 21! Bravo, bravo! Questa è la detta giusta! Ma secondo te è più difficile usare la forza centrifuga o centripeta nella pedalata sulla bicicletta? Si stava meglio quando si stava peggio! Con la lavasciuga è meglio! Viva la lavasciuga! E allora un grande saluto a tutti gli amici di Gira e Rigira nel tuo dialetto! Ciao! Ciao! È un dialetto internazionale! Ciao! Ciao! Eeeh!